Terza vittoria consecutiva del nuovo anno e dall'inizio del girone di ritorno, tre gol per tempo per archiviare la pratica Ciclope Bronte e regalarsi un'ulteriore scalata in classifica in solitudine al secondo posto del girone B, Uniones terza categoria, terzo acuto di fila perché la settimana scorsa è stata caratterizzata da un sorriso a tavolino, la sconfitta interna con Belpasso per 0-2 è stata tramutata in 3-0 dal giudice sportivo per limite superato di sostituzioni degli avversari. E così 27 punti sempre dietro al Catania che ne vinte 11 su 11 e a più 5 sulla terza che è il Real Catania. In sostanza per la meridiana playoff e seconda fase sempre più realtà ma intanto il 6-0 sul Ciclope con le novità di alcuni 2005 in campo, Marletta esterno sinistro basso, Nicolosi in mezzo al campo e Sciacca per la difesa che entrerà nella ripresa. Tra i convocati anche Anastasio e il portiere 2007 Siceli assenti di Otte e Garcia per l'attacco dal primo minuto Tolentino. 6 minuti per sbloccare la partita rimessa lungo linea di Signorelli dal fondo recupera palla Aiello. Scarico su Mattia Nicolosi che realizza il primo gol in under 19 alla seconda presenza stagionale consecutiva. 1-0 per la meridiana e subito la reazione brontese con una punizione non molto lontana dal palo di Luca in Brociano a cui risponde dall'altro lato Rodolico appena alta la sfera sopra la trasversale. Poi Marletta dal corner saltano Cavallaro e Sapienza ma non bucano la retroguardia dei rossoneri che creano difficoltà ai catanesi. Superlativo Mazzeo per evitare un pericoloso è possibile. 1-1. Solo calcio d'angolo dunque per gli ospiti e così. Superata la mezz'ora di 4 minuti e scampate il pericolo tamponano un avanzato avversario a Tolentino e Nicolosi nella propria metà campo. Arcifa apparecchia in profondità. Scatta Rodolico che si intromette nell'indecisione difensiva del ciclope e a porta vuota fa 2-0. Primo gol in stagione anche per Giovanni Rodolico e partita verso la chiusura anticipata anche grazie al sinistro di Caede Arcifa che realizza il suo dodicesimo gol stagionale. Non ultimo tra l'altro di questa giornata e da non perdere nel finale di partita un gol davvero da applausi. Ma intanto questo è quello su punizione che vale il 3-0 al 43esimo e con questo parziale si va all'intervallo al seminara. Di Emanuele lancia Alfio Sciacca inizio ripresa per Marletta a sinistra dunque viene dirottato Spinnicchia. Rodolico vicino al bis sbaglia un gol praticamente fatto tu per tu con Montagno in avvio di tempo. Mentre il ciclope tenta di segnare il gol della bandiera ma è sfortunato quando colpisce il legno con Piazza. Dentro Adam per Nicolosi a 10 minuti dal rientro in campo e a seguire spazio a Nicotra per Tolentino. Altri due campi da parte di Di Emanuele in mezzo ovvero al dodicesimo minuto Arcifa Pennella poco fuori dall'area di rigore. Fa 4-0 trasformando magistralmente un'altra punizione stavolta con traiettoria alta. Due interventi d'applausi di Giuseppe Mazzeo tra i pali riscattano la prestazione non brillante del numero 1 della meridiana con il bel passo della settimana precedente e consentono di chiudere il conto con 0 gol al passivo. Conto che si rafforza anche quando il ciclope è bronte volentroso ma impreciso oltre che sfortunato. Le tenta tutte per segnare almeno una rete non riuscendoci. Dentro Cardillo per Cavallaro quando abbiamo oltrepassato la mezz'ora ultimo cambio del lunedì. Ma partita che riserva ulteriori emozioni nel finale Sapienza, Nicotra e Aiello in formato rapido innescano Adam che con un bel pallonetto tracomandato Terracielo confeziona il 5-0 al 37esimo. Gol di Adam Allam ed è il numero 8 in stagione per lui. A due dalla fine l'acrobatico Arcifa fa centro per la terza volta in questo lunedì. Rodolico apre su Nicotra che mette in mezzo dopo aver atteso la marcatura di un avversario meravigliosa sforbiciata di Arcifa che regala l'ultimo sorriso di questa serata ed è il gol del 6-0 finale. Gol numero 15 del capocannoniere dell'intero Girone B dell'intero torneo provinciale di Catania. Ottavo miglior realizzatore dell'intero panorama regionale. Un gol assolutamente da rivedere questo di Arcifa. Adesso come detto torneo in pausa. A inizio febbraio appuntamento a San Gregorio alla ripresa del campionato lunedì 13 alle ore 17 in casa di un avversario con appena un punto in classifica. Oggi abbiamo spaccato in campo. Diciamo che il primo tempo abbiamo giocato un po' sotto tono però secondo te abbiamo capito le dinamiche della squadra avversaria e abbiamo vinto di strallunga. Una partita che viene dopo il 3-0 a posto a favore a tavolino con una partita contro il Belpasso che cambia totalmente quindi alla classifica. Sì, questo ci favorisce molto andando a più 5 dal Belpasso e diciamo rassicurando il secondo posto. Anche lì una partita un po' sotto tono giocata però grazie a un loro sbaglio noi abbiamo vinto. Diciamo che abbiamo imparato a capire che si vince sul campo e non sugli sbagli che fanno loro fuori dal campo. Infatti ci ha migliorato. Ci ha migliorato sotto il punto di vista tecnico e tattico e oggi abbiamo stravinto.